Questa per me è una mostra che è la mostra, perché racchiude i miei 50 anni di attività, dalle origini fino alla produzione attuale, quindi è molto importante per questo. La popolarità di Franco Fontanella non nasce dai circuiti abituali, che sono quelli delle mostre, ma lui nasce tra virgolette per strada e su strada. Sì, in effetti io mi sono sempre venduto da me, perché ho lavorato sempre con il cliente e quindi non sono passato attraverso la strada delle gallerie e quindi mi sono sempre venduto da solo, nei miei negozi. E adesso è arrivata questa consacrazione con la mostra di Roma e quella di Ancona. Sì, questa come ripeto è per me una mostra importante perché racchiude tutta la mia vita. Come nasce l'idea di fare questi quadri sulla riviera del Conero, che sembrano davvero delle fotografie? La riviera del Conero è una delle zone più belle di tutta la zona triatica, quindi è anche facile come soggetto. Quindi da Porto Novo fino a Porto Recanati, passando per Porto Novo, la spiaggia delle due sorelle, sono luoghi bellissimi, sono già dei dipinti da soli. A me viene spontaneo eseguire questi dipinti, infatti molti me lo chiedono che tecnica usi. In realtà guardando la sabbia, guardando il mare, per me viene naturale dipingerli così, in maniera realistica. Oggi quindi celebriamo i 50 anni della grande attività pittorica dell'artista Fontanella, proprio a Roma con la comunità marchigiana e quindi la cosa importante è valorizzare i nostri talenti in giro per il mondo. Oggi siamo a Roma, Caputmundi, e quindi siamo veramente orgogliosi di avere questi nostri talenti della nostra regione. E quindi veramente siamo orgogliosi di vedere queste copie che sembrano ovviamente degli originali di Fontanella, che celebra appunto ben 50 anni. In una stanza come questa, così armoniosa, ci può vedere il dubbio di essere davanti a un falsario, che è in grado di fare Leonardo, Van Gogh, Parmigianino, Caravaggio. In realtà sono opere di Franco Fontanella, che sono certamente copie d'autore, ed indicano la dignità con cui un artista si misura con la storia, perché non puoi pensare di dipingere come se non avessi il passato alle spalle. Lui sente l'evocazione di questi artisti e la trasmette a chi ci guarda, a chi li guarda, con le copie. Sono copie di studio, sono tentativi di mostrare che c'è un'unica corrente dell'arte, un lungo fiume, di cui tu sei nella parte terminale, e però vivi con il sentimento di questi maestri. Le dimensioni non sono sempre corrispondenti ai quadri originali, quindi non c'è intendimento di ingannare. C'è la volontà di far capire che la storia dell'arte è una sola, che tutta l'arte è contemporanea. Quindi questi esercizi sono per capire qual è il pensiero di Leonardo, di Caravaggio, di Van Gogh e elaborare il proprio in dialogo con loro. Quindi questa è, diciamo, la stanza chiave della mostra. Poi ci sono i paesaggi, i ritratti, in cui lui, partendo dai maestri che sono dentro di lui e intorno a noi, indica la propria strada dentro una figurazione molto avvertita e non illustrativa o accademica. Per cui l'accademia è semplicemente nel provare a misurarsi con lo stile dei grandi maestri. Il resto è il punto d'arrivo con cui lui si muove nel mondo dell'arte contemporanea. Quindi tra passato e presente, tra copia, interpretazione e vita dell'arte che non finisce.